E Ciro Cirullo, street artist conosciuto con il nome di Jorit, il giovane italiano che ieri sera ha dialogato con il presidente russo Vladimir Putin durante un forum della gioventù a So. Alla fine del forum Cirullo ha chiesto a Putin di poter fare una foto con lui, perché, ha detto, in Italia si dicono tante cose strane. Al che il presidente ha risposto, certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una pers. Putin ha poi fatto una foto con l'artista italiano. Un grande murale di Ornella Muti, realizzato proprio dallo street artist, è stato inaugurato nella città russa di Sochi alla presenza dell'attrice e rimarrà a ricordo del forum mondiale della G. Il ritratto di Ornella Muti campeggia sul muro di un palazzo sulla via Kayelkov. Quando ho pensato a un modo per fare avvicinare l'Italia e la Russia, ho pensato alla grande attrice Ornella Muti ha detto Jorit, citato dai me. L'attrice, la cui nonna materna era di San Pietroburgo, è molto popolare. Attirarsi dietro una pioggia di critiche sono però proprio le attrici Ornella Muti e Naiki Revelli, madre e figlia, per via delle dichiarazioni rilasciate per l'occasione. Qui siamo liberi di esserci. Attirarsi dietro una pioggia di critiche sono però proprio le attrici Ornella Muti e Naiki Revelli, madre e figlia, per via delle dichiarazioni rilasciate. C'è un grande affetto e ammirazione nei miei confronti, ha detto Muti è stata un'emozione grandissima parlare al forum dei giovani. Molte le critiche qualcuno scrive, se vi sentite così libere, perché non c'è? Un post condiviso da Naiki Revelli Chiocciola Naiki.